È stata l'improvvisa rottura di una tubazione idrica alla causa del disagio che si è generato ieri pomeriggio all'interno dell'ospedale di Sciacca e che ha creato momenti di difficoltà presso la hall del presidio ospedaliero. La rottura ha determinato una copiosa perdita d'acqua proprio in corrispondenza dei locali di ingresso e dunque fortunatamente in una zona dove non ci sono reparti e pazienti ricoverati. Sul posto è prontamente intervenuto il servizio tecnico di manutenzione che una volta individuata la causa ha risolto il problema, precisa oggi l'azienda sanitaria provinciale. L'inconveniente si è verificato intorno alle ore 18 per essere risolto dopo quasi due ore con il ripristino dell'erogazione idrica nel tratto precedentemente isolato. Intervenute prontamente anche le squadre specializzate del servizio di pulizia, la situazione è dunque tornata alla normalità con l'asciugatura dei pavimenti e la restituzione degli ambienti alla fruibilità. Oltre a scusarci con l'utenza dell'ospedale per il disagio subito, ha dichiarato il commissario straordinario dell'ASPE Mario Zappia, non possiamo non complimentarci con i tecnici e gli operatori del servizio di manutenzione e pulizia per la prontezza e l'efficacia del loro intervento. Sulla vicenda è già stata chiesta ed ottenuta una relazione alla direzione sanitaria di presidio per approfondire le cause del problema ed evitare che possa ripetersi, conclude Zappia.